Ciao a tutti, siete venuti sul nostro canale di notizie. Non dimenticate di abbonarci e condividere per supportare il canale. Nicole Conte, l'ex compagna di Letizia Petris del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio e condividere la sua tormentata storia d'amore con la concorrente del reality. In un'intervista esclusiva a fanpage.it, Nicole si apre sulle diverse fasi della loro relazione, dalle prime fasi fino all'epilogo, svelando dettagli scioccanti di abusi fisici e psicologici.La prima reazione di Nicole quando le è stato chiesto un'intervista è stata un rifiuto categorico. Tuttavia, il desiderio di raccontare la sua verità su una storia che definisce dolorosa la spinta a cambiare idea dopo qualche ora. Accanto a lei c'è Francesca Frigerio, la sua attuale compagna, che ha giocato un ruolo fondamentale nel sostenerla e aiutarla a superare le difficoltà legate al passato con Letizia. Nicole rivela che per un intero anno ha avuto bisogno del supporto di uno psicoterapeuta per affrontare e razionalizzare la sua esperienza.Punto Nicole e Letizia si sono conosciute attraverso amici comuni, ma fin dall'inizio la loro relazione è stata caratterizzata da comportamenti strani e pettegolezzi su altri presunti coinvolgimenti di Letizia con altre persone. Nonostante le voci che circolavano, Nicole ha creduto alle spiegazioni di Letizia, ma con il tempo ha scoperto che la concorrente del grande fratello aveva una relazione parallela con un'altra ragazza.La storia di Nicole è costellata da episodi di tradimenti, bugie e manipolazioni da parte di Letizia. La concorrente del reality sembrava incapace di mantenere una relazione stabile e continuava a tornare da Nicole solo per lasciarla di nuovo. Nicole rivela che Letizia l'ha accusata di essere pazza e psicopatica, minando così la sua autostima e manipolando i suoi sentimenti. Uno degli episodi più sconvolgenti è il racconto di due schiaffi inflitti da Letizia nei giorni del suo compleanno. La prima volta, durante una serata di lavoro, Letizia l'ha schiaffeggiata davanti a tutti perché Nicole non le aveva fatto gli auguri. Il secondo schiaffo è avvenuto un anno dopo, quando Letizia l'ha insultata e maltrattata verbalmente, arrivando poi a colpirla nuovamente fisicamente. La relazione tra Nicole e Letizia è diventata sempre più tossica, con la concorrente del grande fratello che continuava a giocare con i sentimenti di Nicole, creando drammi e tornando a cercarla nonostante avesse una relazione con un'altra persona. Letizia sembrava godere nel manipolare la situazione e causare sofferenza a Nicole.La storia ha avuto un momento di svolta quando Nicole ha scoperto che Letizia aveva una relazione con il suo migliore amico che durava da due anni. Questo ha confermato le peggiori paure di Nicole riguardo al loro legame morboso. Letizia sembrava giocare con entrambi, illudendo sia Nicole che il suo migliore amico. Nicole ha anche rivelato di aver subito minacce da parte di amici di Letizia e di aver vissuto episodi in cui la concorrente del grande fratello l'ha accusata ingiustamente e l'ha maltrattata fisicamente. La situazione è peggiorata quando Francesca, attuale compagna di Nicole, è entrata in scena. Letizia ha cercato di interferire nella nuova relazione di Nicole, inviando messaggi minacciosi e cercando di destabilizzare la coppia. Francesca ha raccontato di un incontro in un centro commerciale durante il quale ha cercato di far capire a Letizia di rispettare la nuova relazione di Nicole, ma la concorrente ha reagito in modo aggressivo e minaccioso.La coppia ha anche ricevuto messaggi intimidatori da profili Instagram falsi, sospettando che potessero essere collegati a Letizia. Tutto ciò ha contribuito a rendere la vita di Nicole e Francesca più difficile, generando stress e ansia. Il 27 luglio 2022 è stata l'ultima volta che Nicole ha avuto un contatto con Letizia, quando c'è stata una lite al centro commerciale. Dopo diversi tentativi di Letizia di riavvicinarsi, Nicole non l'ha più sentita dal 30 settembre 2022. Nicole conclude l'intervista con una richiesta diretta a Letizia, raccontare la verità. Non cerca altro, ma vuole che la verità venga finalmente alla luce. Ha trascorso un anno di psicoterapia per superare il trauma causato dalla relazione con Letizia e ora sta cercando di costruire una vita sana e stabile con Francesca. Grazie per aver guardato l'intero video. Per favore, iscriviti e condividi per supportare il nostro canale e produrre video migliori. Grazie e ci vediamo di nuovo! Grazie a tutti!